Verona e Belluno da menzione d'onore l'ha dichiarato oggi il presidente della regione Luca Zaia che ha commentato così il report nazionale sulle donazioni d'organi e tessuti che vede tante città del Veneto nella top 10 dell'indice del dono. Orgoglio e gratitudine a Belluno, secondo capoluogo assoluto per tasso di consenso alle donazioni nella classifica dei comuni medio-grandi. Un risultato che gratifica il lavoro di squadra svolto anche a livello istituzionale che vede Aido a stretto contatto con l'ULS e i comuni dove ogni cittadino può rivolgersi per certificare la volontà di donazione. L'adesione ovviamente arriva al SIT che è il sistema informativo tra pianti, è proprio il database che raccoglie tutte le adesioni positive alla donazione delle organi per poi ovviamente nel momento in cui servisse viene consultato. Poi di conseguenza ovviamente nel momento che uno fa la scelta in comune questa scelta verrà inserita nella carta elettronica. Nella classifica regionale i migliori tre comuni veneti sono tutti in provincia di Belluno. Si tratta di Vallada a Gordina, Lorenzago di Cadore e Voltago a Gordino. Nonostante il montanaro, chiamiamolo così, sia visto che una persona chiusa è poco disponibile, nella realtà il cuore è grande e diventa subito disponibile per le questioni veramente pratiche e quindi la donazione degli organi è sicuramente uno degli alti valori che il bellunese, tutto il bellunese, ritiene i dover portare avanti. Negli anni in provincia è cresciuta una sensibilità culturale e una partecipazione della cittadinanza al tema della donazione di organi grazie a un'attività formativa e informativa svolta a vari livelli. Lo afferma il primario di anestesia e rianimazione del San Martino, il dottor Davide Mazzon, temporaneamente a capo del coordinamento provinciale trapianti dell'Ulse 1. È stato il frutto di un'azione corale da parte di tutte le istituzioni che a vario titolo vengono coinvolti in questa attività.